Dichiarazioni false per nascondere al fisco circa 2 milioni di euro per gli anni 2010-2011 è quanto scoperto dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Teramo che ha recuperato l'ingente somma ad una società con sede a Pineto che aveva presentato dichiarazioni con ricavi pari a zero a fronte di operazioni commerciali ed immobiliari per circa 2 milioni di euro. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione dell'attività manifatturiera determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dalla stessa nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per circa 2 milioni con un'imposta evasa ai fini Ires per circa 44 mila euro ed un'iva dovuta per 373 mila euro. Ed inoltre è stata rilevata un'evasione immobiliare conseguente ad un'avvenuta compravendita di un terreno e di un immobile i cui ricavi non sono stati dichiarati per complessivi 305 mila euro. Il responsabile è stato denunciato per violazioni in materia penale tributaria e cioè in fedele dichiarazione dei redditi. L'operazione delle fiamme gialle si inserisce in un filone investigativo nell'ambito del quale era stato individuato nel dicembre 2014 un altro caso di evasione milionaria per 2 milioni 200 mila euro perpetrato con analoghe modalità da un'impresa immobiliare con sede in Silvia e Marina.